Continuano ad arrivare in queste ore messaggi di cordoglio alla famiglia di Luca Vecchiato, il re dei panificatori, scomparso prematuramente a 55 anni a seguito di un malore fatale domenica scorsa. I familiari hanno fissato la data delle eseque che si terranno nella Basilica del Carmine a Padova lunedì 19 agosto alle ore 10. Dalle associazioni di categoria all'amministrazione comunale con il sindaco Sergio Giordani e l'assessore Antonio Bressa hanno ricordato il grande impegno e la maestria di Vecchiato, capace di adattare il suo lavoro ai tempi, di intercettare i cambiamenti ma al contempo di rispettare la tradizione. La famiglia Vecchiato ha una storia legata alla panificazione che si tramanda di padre in figlio. Luca Vecchiato inoltre è stato ricordato in questi giorni anche per la sua grande solidarietà, quando durante il Covid fu uno dei promotori di Padova non si ferma, iniziativa che metteva insieme molti titolari di esercizi pubblici come bar e ristoranti con l'obiettivo doppio di lavorare nonostante le restrizioni e al contempo portare cibo a chi aveva bisogno e ai medici impegnati nei reparti d'emergenza. Grazie